un saluto amici casa la chiave oggi abbiamo ricodificato una chiave per ford c max quella che telecomando andava il telecomando ma non andava l'accensione andiamo a vedere se adesso accende alla grande perfetto chiave ricodificata ford c max andiamo a porto chiavi milano casa della chiave number one e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.